Prima semifinale, tiro a Campari contro, sempre problemi con la tazza, Campari con la Nassone, ora con Torchio accorciando di distanze, avversario Baillardo, spalla canestra, Baillardo contro Calciano, vantaggio di stazza, tira, bel giro e tiro, bello, molto bello, molto bello. Segna Brogy un libro, 21 a 15, segna prima Torchio, e la Torchi anche la seconda volta, 4 secondi, Brogy, 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 scivola nu, Torchio, 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 nu, 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 21 a 17, tazza, vantaggio, pasticcio di Campari, Bella palla di Frontini, quasi, che è un'altra prova di Pellizzoni, bella l'assist comunque di Frontini. Davanti, se non di tanto. Balsani stavolta trova bene posizione, deposita. Marinò da 3, Marinò, bomba, attenzione, Campari che da nulla, no, Marinò, Marinò. Rizzoni, grande entrata che ha anche la Nassone. Segna, 3, 2, 1, Giulietti, Giulietti, 40, 36, vantaggio, tazza all'intervallo, sul tiro a Campari. Partita che si accende, tornata Andrea Bassani. Balsani, perché è una difficoltà, questa squadra, 41-50, anche meno 10. Meroni da 3, bomba, importante, Aaron Meroni, però da 2, non era da 3. 7. Beretta, si butta, sbaglia, Bassani allo scadere, oh, errore, sorprendente l'errore di Bassani, ma comunque, sempre lì Campari, anche se la tazza comanda, 5-5-51, 5 e mezzo alla fine, si andrà punto a punto fino alla fine probabilmente, vediamo, però se magari una delle due squadre riesce a fare il break al momento giusto. Elena Calciano sbaglia, Bassani, il solito dominatore, lo rimbalzi, la mette dentro. Sì, 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 si può, l'unica cosa vietata, sono stoppate, il resto si può. 61-56, pensieri che c'è Emilia. Lotta selvaggia su ogni azione, Broggi trova il corridoio, deposita, 61-60. Valentina Giulietti, bel canestro, alzando la parabola, è entrata dal lato destro, 63-60 da Campari. Sto più segnando la tazza. Bassani controlla, segna, subisce fallo, attenzione. Può essere il break vincente, 2-16. Due tre liberi, Bagliardo, situazione molto difficile per la tazza, molto, molto. Va a segno Bagliardo, mette una pezza importante per i Campari, per controllare la partita, per la tazza, per la tazza, bella palla, Giulietti, oh, splendido, taglio l'assist e il canestro in rovesciata di Giulietti, splendidamente giocata. Bagliardo, non molla Bagliardo, brava, protagonista delle donne in questo momento. Due tre liberi, Beretta, Beretta segna. C'è bisogno di una tripla, c'è bisogno di una tripla, c'è bisogno di una tripla. Broggi, tre punti, 2-66, Beretta con treno, Slalomone. Rischia di essere la resa qui. No, invece no, palla rubata, Pellizzoni, deposita. Tiene viva la tazza, 74-68, 50 secondi alla fine. Marino non trema, 2 su 2. Da scalare, però tibè, non molla, meno 7. Beretta, non riescono a fare fallo, eh, non riescono perché rubano. Pellizzoni, gran contropiede. 86-71. Due libri, Marino. Due su due, Marino, due su due, Marino. Secondi, bomba, Pellizzoni. Tre, due, una, è finita. Tiro a Campari in finale per la prima volta della sua storia. 78-74. Ho sempre problemi con la tazza. Abbiamo la prima finalista di Pizzago 2018.